La prima parte sarà più filosofica, cercherò di raccontare qualche problema, qualche criticità del machine therapy game, la seconda parte invece vi racconterò il metodo che abbiamo adottato per risolvere forse un piccolo pezzo di questa criticità. Comincio subito a parlare di che cos'è l'epistemologia, magari qualcuno di voi ha studiato filosofia. L'epistemologia è una branca della filosofia che studia la conoscenza, come si apprende, quali sono i metodi, come si può ottenere una conoscenza valida e in particolare la domanda principale che viene affrontata nell'epistemologia è cosa rende un'opinione una credenza giustificabile o giustificata. Per giustificare una credenza abbiamo bisogno di almeno una di questi due modi di conoscere. Uno è il fenomeno, possiamo avere una conoscenza intuitiva di un fenomeno, per esempio lo sconto, mettiamo il dito sul fuoco, intuitivamente pensiamo che potremmo scottarci. Un secondo modo di conoscere è avere un modello che ci dica che cosa succede se metto il dito sul fuoco e quindi possiamo scrivere una funzione che ci dica quanto si scalda il dito man mano che lo teniamo sul fuoco. Però abbiamo bisogno per conoscere di uno di questi due strumenti o abbiamo una conoscenza intuitiva di quello che succede oppure il modello che descrive quello che succede deve essere intuitivo e se abbiamo uno di questi due strumenti possiamo giustificare la nostra conoscenza. Tradizionalmente l'approccio classico alla conoscenza dei fenomeni che ci circondano è un approccio top down, è un approccio che ci siamo insegnati negli ultimi secoli da Newton, da Galileo e così via, che si basa sull'osservazione del mondo che ci circonda e attraverso un'intuizione, una percezione di quello che ci sta attorno, cerchiamo di scrivere un modello più o meno semplice che ci permetta di capire che cosa ci sta circondando. Poi traduciamo questa intuizione in formule matematiche più o semplici, rudimentari, che sono quello che ci viene in mente e quindi abbiamo, da un guardo, il fatto che questi modelli sono intuitivi, quindi riusciamo a comprenderli più o meno, però sono limitati perché ovviamente il modo con cui noi osserviamo il mondo è ingenuo, è limitato dal nostro modo, dalla nostra percezione e quindi spesso questi modelli hanno fallito nel corso della storia, talvolta non funzionano se quello che cerchiamo di osservare è molto complesso. L'approccio adottato dal statistical learning e poi dal machine learning, insomma chiamiamolo come vogliamo, è un approccio che va nel verso completamente opposto, cerchiamo di trarre la maggior nuova informazione tramite sensori, tramite campionamenti del mondo, cerchiamo di ottenere il massimo numero di informazione, trasformare queste informazioni in numeri e poi utilizzare un algoritmo che ci trovi, che costruisca un modello che è pensato più flessibile, più potente possibile, in modo tale da descrivere il numero più alto dei fenomeni possibili. Quindi poi utilizzando questo algoritmo riusciamo a ottenere un modello che è molto descrittivo, molto dettagliato, molto accurato, ma quello che succede è che spesso questi modelli incorporano milioni di variabili e quindi poi la comprensione di questi modelli è altrettanto difficile quanto la comprensione del fenomeno. Quindi se da una parte abbiamo modelli scritti a mano dagli esseri umani che riusciamo a maneggiare, riusciamo a comprendere, quindi abbiamo un fenomeno comprensibile e quindi un modello comprensibile, dall'altro abbiamo spesso un fenomeno che non riusciamo a comprendere e quindi non riusciamo a scrivere, però abbiamo uno strumento, il machine learning, che ci permette di risolvere il problema, ma lo sappiamo perché? Il problema è che non riusciamo a conoscere il fenomeno e non riusciamo a conoscere neanche il modello e qui c'è il problema epistemologico, perché la credenza è basata o sulla conoscenza del fenomeno intuitiva o sulla conoscenza intuitiva del modello e in questo caso non riusciamo a trovare una giustificazione filosofica perché non riusciamo a conoscere l'uno e l'altro. Il rischio di fidarci ciecamente di strumenti che non capiamo o di fenomeni che non capiamo fino in fondo, il rischio è quello di diventare dei tacchini come Bertrand Russell, descritti da Bertrand Russell e quindi al Thanksgiving poi veniamo cotti e mangiati e quando non funzionano, magari non lo sappiamo neanche, è un'analisi che si scontra su un altro. No, a parte gli scherzi, però ci sono delle criticità e se non riusciamo a... se ci sono delle criticità e non ci permettono di giustificare a volte i nostri modelli, però hanno una giustificazione del fenomeno del modello e quello che abbiamo cercato di fare è di evitare queste criticità per cercare di trovare delle soluzioni o tappare dei buchi o cercare di proporre qualcosa di nuovo che ci permette di andare oltre. La prima criticità che abbiamo evidenziato è il fatto che non comprendiamo questi modelli, però possiamo magari analizzare i risultati. Il rischio di analizzare dei risultati di modelli che non comprendiamo è quello di fare differenze errate. Faccio un piccolo esempio, abbiamo due fenomeni A e B, supponiamo il numero di pirati nel corso dei secoli e la temperatura globale nel corso dei secoli, vediamo dai risultati che questi due fenomeni, queste due variabili sono correlate. Ora, ci si potrebbe spiegare questa correlazione in almeno quattro modi. Inizialmente potremmo supporre che una è causativa dell'altra, magari la diminuzione del numero di pirati ha causato l'aumento della temperatura, viceversa l'aumento della temperatura ha fatto diminuire il numero di pirati e queste sono più o meno quelle che pensiamo, cioè che siamo abituati a pensare, che una variabile stia causando l'altra, però esiste la possibilità che ci sia una terza variabile che causi entrambe, oppure che la correlazione sia del tutto casuale e che in realtà non ci sia una vera relazione di causa liberata delle due variabili. Il rischio, appunto, come dicevo, è che noi ci fissiamo quando vediamo i risultati di un modello in cui si trovano delle correlazioni, cerchiamo di forzare la relazione di causa-effetto tra i fenomeni e le variabili che stiamo osservando. Questo è un errore grave e ci può dare l'illusione di conoscere quando invece non abbiamo capito niente. Quindi bisogna essere il primo rischio quando si trovano modelli che non conosciamo e quello di prendere delle cantonate mostruose. Il secondo problema che abbiamo elencato del machine learning è la limitata capacità di generalizzazione che evidenzia in vari casi. Adesso vi farò qualche esempio semplice di generalizzazione e cercherò di spiegarvi cosa intendo per mancanza di capacità di generalizzazione. Prendiamo un esempio molto semplice e cerchiamo di generalizzare cosa accade a questo punto quando cerchiamo di apprendere. Questo punto non è esattamente un campione che abbiamo nel nostro dataset, però cerchiamo di generalizzare e cerchiamo di fare delle inferenze su cosa potrebbe essere quel punto lì, di che classe potrebbe appartenere. Se guardiamo quello che sta attorno a questo punto è abbastanza semplice, supporre che a questo punto possa appartenere alla classe rossa. È un'interpolazione abbastanza semplice, non c'è molto da dire, anche un essere umano intuitivamente potrebbe far parte della classe rossa. Se ci spostiamo in punti del piano più complicati, magari vicini alle superfici di decisione, gli errori possono essere maggiori perché possiamo vedere attorno a questo punto in situazioni diverse, quindi possiamo fidarci meno di quello che sta succedendo. Qui generalizziamo, proviamo a generalizzare, ma abbiamo il rischio di commettere errori. La cosa curiosa è cosa succede quando ci spostiamo in un punto dello spazio in cui non c'è niente attorno, ci spostiamo in un punto in cui non abbiamo informazione attorno. Quindi un algoritmo di machine learning qui sarebbe molto confidente nel fatto che quel punto sia un fiore tipo virginica, quando in realtà questo fiore potrebbe essere, non c'è informazione veramente lì. Però un algoritmo machine learning, siccome siamo lontani dai decision partners e qua c'è tutta classe gialla, questo qui è sicuramente classe gialla, siamo confidenti. Quindi se leggiamo il modello senza vedere il grafico, senza poter disegnare quello che sta succedendo, noi ci fidiamo e ci fidiamo ciecamente del machine learning, gli stiamo. La cosa più assurda è cosa succede quando siamo qui. Quindi cosa succede se noi siamo in un punto dello spazio in cui non abbiamo informazione, non solo, siamo anche vicini ai decision boundaries di un algoritmo di classificazione. Non abbiamo informazione veramente per capire cosa sta succedendo. Il machine learning è molto potente per l'interpolazione, ma quando si tratta di estrapolare fa di veramente difficoltà e dobbiamo stare attenti a capire quando stiamo interpolando e quando stiamo estrapolando. E in due dimensioni è ancora facile, ma quando la dimensionalità del problema è più ampia, capire se si sta interpolando o estrapolando può essere un problema veramente difficile. Appunto, quello che dicevo prima, quando siamo in età di dimensionalità, se non si riescono a disegnare in superfici di decisione, può succedere che algoritmi, anche che magari overfiltano un pochino, ma neanche troppo, poi facciano queste robe qua e a dimensionità più alta quella roba lì non si riesce a interpretare bene. La terza criticità che abbiamo elencato del machine learning è il fatto che questi modelli sono molto grossi, anche se riusciamo a interpretare, essere cauti e fare influenze calde, a risolvere il problema del fatto che riusciamo a capire quando stiamo interpolando e quando stiamo estrapolando. Il problema è che questi modelli sono enormi e possono essere enormi, o perché il numero di variabili del fenomeno è ampia, oppure perché abbiamo un sacco di campioni. In particolare, quando abbiamo un problema anche semplice, se noi incorporiamo nei nostri modelli variabili inutili, rischiamo soltanto di rendere più grosso il modello e di non capirci niente, già incorporando quattro variabili in un modello e non riusciamo a disegnare niente, quasi nulla, se ne teniamo due magari riusciamo e quindi se riusciamo a togliere tutta l'immondizia possiamo fare modelli più semplici e che magari abbiamo la speranza di interpretare niente. Ricordo che è un parallelo plot, eh? Sì. Ah, sì, vabbè, in questo grafico gli assi sono messi in parallelo e non in perpendicolare solo per visualizzare l'arrivata di dimensionalità, ma qui ognuno di questi assi è una variabile. Grazie a tutti, un modo di graficare. Il problema di avere tanti campioni invece è il fatto che poi dobbiamo processare questi campioni. E quali scegliamo di processare? E tendenzialmente dobbiamo processarli tutti, o campioniamo i campioni da processare, prendiamo a caso, però l'idea è che poi bisogna processarli questi campioni, bisogna anche metterli da qualche parte e rendiamo gli algoritmi molto lenti, se noi dobbiamo processare tutta questa quantità di dati, poi dobbiamo farlo con algoritmi che siano semplici, che siano parallelizzabili, non tutti gli algoritmi sono parallelizzabili, magari vorremmo usare qualcosa di più complesso ma non possiamo perché ci mettiamo troppo tempo e quindi è un problema di certe applicazioni in cui magari vogliamo andare molto veloci e non possiamo. Avere tanti campioni vuole anche dire che magari non ci riesco a capire niente, io magari riesco a disegnare due dimensioni, a schiacciare due dimensioni, un problema, questi sono numeri, ma poi se voglio andare a disegnare il confine della classe 8 non ci capisco niente e quindi avere tanti campioni può essere un problema. L'idea che abbiamo avuto e che adesso cercherò di raccontarvi è cercare di, all'interno di tutti i campioni che esistono nel nostro dataset, andare a selezionare quali sono i campioni fondamentali, quelli che sono quelli veramente importanti per i classificatori e quindi ci possono dire qualcosa sul modo di compensare dei classificatori, come aprire la mente ai classificatori vuole anche dire capire su quali campioni si sta basando la decisione. Per spiegarvi questo faccio una cosa un po' stupida, però cos'è un training set? Un training set è un insieme di campioni che servono per tirare una superficie a tante dimensioni, diciamo. Qual è la caratteristica principale di questa riga? Ebbene, quando poi ci metto dei dati che non avevo prima, questa riga deve funzionare più o meno bene, cioè deve riuscire a classificare abbastanza bene i nuovi campioni. Beh, allora, l'idea del core set è quella di selezionare non tutto il training set per fare un allenamento, per produrre questa riga, ma soltanto un sotto insieme, in modo tale che poi quando vado ad aggiungere i nuovi campioni, che adesso non si vedono in la paglia, comunque la riga ottenuta votando soltanto meno campioni deve essere dello stesso tipo, più o meno simile, garantire una performance più o meno simile a quella che si sarebbe ottenuta utilizzando tutti i campioni. Il vantaggio è che adesso usiamo meno campioni, la rete è la stessa, però questi campioni magari possiamo andarli a vedere a mano, andare poi dopo, una volta che abbiamo allenato la rete, andiamo a vedere chi sono questi campioni e cerchiamo di capire, con la nostra mente, perché quei campioni sono risultati importanti. Ci sono vari algoritmi che sono stati proposti dal 2000 in poi per selezionare il core set, sono tutti basati su, diciamo, due parole, questo è il machine learning, ma mi sembra che qua sono tutti, questa è la rappresentazione proprio qua anche per persone che non erano proprio dentro il machine learning, il nostro approccio è schematizzabile in questo senso. Abbiamo i nostri dati, abbiamo un modello matematico che nel nostro caso è un classificatore, la funzione di errore ha due dimensioni, la prima è l'errore di classificazione, stiamo cercando di classificare quindi dobbiamo minimizzare questo errore. La seconda è la taglia del 397, quindi quanti campioni stiamo usando per allenare il nostro classificatore? Noi tutti ho il dati, se dobbiamo usare un soppinsieme e quindi quello che cerchiamo di fare è misurare quanti campioni stiamo usando, vogliamo minimizzare questo numero per poter, diciamo, trovare un soppinsieme minimo che ci permette di ottenere il miglior risultato. In particolare l'ottimizzatore che abbiamo usato è lo stato dell'arte degli algoritmi dell'ottimizzazione multiobiettivo, che è un algoritmo evolutivo che si chiama INSGA2 e adesso vi racconto come viene costruita la soluzione candidata che poi andrà evoluta nel corso dell'evoluzione, si prende il training set, si propone un individuo che è una stringa binaria, in corrispondenza di uno zero nell'individuo si va a eliminare il campione nel training set, in corrispondenza di uno uno si tiene il campione e quindi si ottiene un training set di dimensione ridotta, abbiamo tolto i campioni, si usa questo training set per eliminare il classificatore e si calcola l'errore del classificatore e questa è una delle due fitness. La seconda fitness, la seconda parte della funzione di costo è data dal conteggio di quanti sono gli uni nell'individuo, quindi ogni individuo, ogni soluzione candidata è data sia dalla quantità di campioni utilizzata per l'allegamento sia dall'errore del classificatore. La cosa interessante degli algoritmi multiobiettivo, dell'ottimizzazione multiobiettivo è che possiamo andare a fare il grafico delle soluzioni finali, alla fine dell'evoluzione possiamo graficare le soluzioni andando a buttarle in un grafico in cui ogni asse rappresenta una delle due fitness. La cosa interessante è che in questo grafico noi abbiamo delle soluzioni che sono sicuramente migliori di altre, la soluzione I e la soluzione K in questo grafico hanno una relazione, la relazione che è I domina K si dice, I domina K perché I è migliore sia per quanto riguarda l'errore, come fa un errore minore, sia per quanto riguarda la taglia, in questo caso del numero di campioni che sono nel training set e quindi ha minimizzato meglio, I è migliore. In particolare tutte le soluzioni che sono in questa porzione di piano sono, in dispazio, sono tutte peggiori rispetto a I. Quello che succede spesso è che ci sono delle soluzioni che non sono dominate, non sono dominabili da altre soluzioni. L'insieme di queste soluzioni si possono congiungere con una linea, questa linea prende il nome di fronte di Pareto e su questa linea vengono rappresentate tutte le soluzioni che sono equivalenti, ossia rappresentano dei compromessi tra l'una e l'altra fitness che sono ottimali e non sono dominabili da altre soluzioni. Quello che abbiamo provato è provare questo metodo, questo tipo di ottimizzazione con vari classificatori di machine learning per vedere qual era la risposta. Adesso vi faccio vedere un po' di grafici, saranno un po' piccoli ma c'è bisogno di vederli insieme. Allora, qui in alto, alla vostra sinistra, abbiamo proprio le soluzioni candidate alla fine dell'evoluzione, i rombi rossi sono le soluzioni ottime, quelle che formano il fronte di Pareto, vedete che abbiamo tanti compromessi, qui stiamo allenando Random Forest, in questo grafico avete un grafico a barra che vi dice quante volte, c'è un paio di volte in cui ciascun sample c'è alcune soluzioni ottime, in basso a sinistra avete i decision boundaries, i rombi sono i punti che sono stati scelti maggiormente da Random Forest per classificare, curiosamente Random Forest fa un po' di rumore, vedete qua e qua, nella classe rossa, la classe rossa non gli interessa tantissimo qual è, quale campione della classe rossa, invece gli interessa molto avere qua, vedete qua e qua, che i campioni della classe verde e blu siano vicini al decision boundary, ha bisogno che quei campioni siano nel suo training set, se non ci sono fa tanto errore. In modo completamente diverso ragiona un classificatore come Ridge, in cui ci sono meno, molti meno compromessi, soltanto due, e in particolare si ha una situazione in cui i punti che vengono selezionati dalle soluzioni migliori sono più o meno sempre gli stessi, e curiosamente il modo di ragionare, proprio il modo in cui Ridge ha bisogno dei campioni è completamente diverso, Ridge ha bisogno di campioni che si trovano non vicini alle decision boundaries, ma più o meno nei centrali delle classi, o comunque non necessariamente vicino alla superficie di decisione della classe blu e della classe verde. Questa è la situazione in cui Ridge si trova meglio in assoluto. In modo abbastanza simile, classificatori basati sulle support vector machines. In particolare, su un problema del genere, abbiamo trovato che S2C trova una sola soluzione ottima che domina tutte le altre. Questa soluzione ottima, in realtà ci sono n soluzioni ottime che si posizionano sempre qui. Anche S2C non gli interessa che anche di cosa succede, quale punto venga scelto nella classe rossa, mentre gli interessa moltissimo che venga preso questo o punti vicini a questo, questo o punti vicini a questo, ma comunque sempre vicini ai centrali delle classi. Questo ci dice che un approccio basato su foreste e su alberi ha bisogno di informazione vicino al decision boundaries, mentre in approcci diversi basati per esempio su modelli che assomigliano le reti neurali, preferiscono se sono buoni, campioni che sono lontani, che sono vicini ai centrali delle classi. Dietro, c'è anche da sottolineare la differenza qualitativa tra il core set per la support vector classification e i vettori di supporto che vengono utilizzati dal principio delle support vector machine. Questo apre un dibattito su come interpretare le support vector machine. Ah sì, diciamo, lo più interessante che diceva Gian Salva è che generalmente le support vector machine scegliono vettori di supporto che sono vicini ai centrali superfici di decisione per minimizzare la distanza, diciamo, massimizzare la distanza che c'è, trovare il decision boundary che massimizza la distanza tra le classi. La cosa interessante è che se noi togliamo campioni dal dataset, i campioni, mi mandano pochissimi campioni a disposizione di essere una macchina di vettori di supporto, e tra tutti i campioni che ci sono nel dataset, quelli che togliendone il più possibile, quelli che gli servono di più per raggiungere la massima performance, sono quelli che invece sono vicini ai centrali, perché gli permettono di inclinare le superfici in modo ottimale. Probabilmente aumentando la dimensionalità, però è difficile poi riuscire a lottare, se il problema è più complesso, eccetera, magari qualche punto vicino al decision boundary compare, però siccome non abbiamo ancora fatto gli esperimenti che stiamo facendo adesso. No, l'ho finito, ho finito, dico soltanto l'ultima cosa, l'idea finale che abbiamo avuto e su cui stiamo lavorando e lavoreremo nel prossimo anno è andare oltre, i corsi che sono limitati a guardare, a selezionare campioni all'interno del training set. È un vincolo molto forte. Cosa succede se noi scegliamo campioni, inventiamo campioni che non sono nel training set? Quindi non ce ne abbiamo nel nostro dataset, però li inventiamo. Noi potremmo trovare, l'obiettivo è sempre trovare superfici in decisione, però con campioni inventati possiamo andare ad analizzare quello che succede in porzioni di spazio che non esistono nel nostro dataset, che però potrebbero avutare o che avrebbero più senso una volta che applichiamo il nostro problema su un dataset reale. Niente, con questo concludo. Grazie. 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 cosa c'è attorno, fare qualcosa tipo Knn e diciamo ok ci sono 10 blu e 3 rossi l'etichetta blu però è un problema ti stai spostando su qualcosa che non esiste nel tuo dataset e quindi l'etichetta potrebbe essere completamente sbagliata se posso aggiungere una cosa su questo però sulle generazioni di dati forse proprio venendo alla domanda che fa lui l'aspetto che potrebbe sembrare completamente naturale è avere un meccanismo, un protocollo di definizione diverso, cioè quello attivo cioè in cui a un certo punto una gente si rende conto che gli fa piacere intuire e generare nuovi dati magari come metri di un decine ma ci dovrebbero essere altri e chiede che cos'è il dato in senso attivo allora questo aggiunge molto valore perché dice bene anche lui quando tu clasterizzi o induci beh verosimente aggiungi ma non troppo perché ne rischi pure di sbagliare nel processo inferenziale che metti in giù invece è molto prezioso se hai l'abilità di fare quello che dici tu ma naturalmente protetta dal fatto che un qualche vincolo anche in una semplice supervisione ci sta ancora diventa molto interessante questo è anche un vincolo geometrico se io intuisco la forma del decision boundary posso intuire questi dati in una zona dove non ho dati perché un gaine restremmo o altro hanno bisogno di dati assolutamente sì no questo infatti è bello cioè che puoi intuire che c'è qualcosa che va avanti e anzi e vivere anche per conto tuo con quella consapevolezza però rispetto a quello che diceva lui prima talvolta può essere utile che siccome non lo sai davvero che tu abbia la benedizione allora sono ancora le parole che già differenza sì e riguardo la cosa che ho mai ria io penso quella cosa è una cosa che ho già pensato in ultimi tempi ma se ne era male volte se ne era guardato sì è correlato il fatto che secondo me che gli arcoitmi di solito usano un pattern alla volta tutti i macellari usano un pattern alla volta e invece ci dovrebbe essere dei casi in cui te riesci a fare delle funzioni prendendo le pattern contemporaneamente secondo me è un cioè quando tu riesci a geometro vuol dire che se che so se io ho un rigamiato un rigamiato un rigamiato la prossima sarà bianca anche se io non ho dati però questa cosa non riesco a farla a meno che i dati non si perché gli arcoitmi normalmente funzionano per l'interpolazione non per estrapolazione però per fare estrapolazione bisogna che tu riconosca delle idee quindi gruppi di dati quindi è un machine learning quindi è un machine learning lo parlavo è la stessa situazione nelle france è un certo ma ti dice in realtà è proprio a gruppi perché è che riesce a dire farla la linea chi parla perché addirittura c'è anche tanta evidenza sui gruppi è anche la discussione che avevamo stamattina quando si discuteva del fattore tempo che viene utilizzato poco nel machine learning io ho una domanda l'algoritmo per trovare il portset praticamente esplora sotto campione il train set vede quanto è lo score e quindi lo fai tante volte però questo è costoso o sbaglio perché ogni volta che devi trenare il classificatore è costoso diciamo che attualmente su problemi semplici di benchmark come NIST IELTS si parla di l'ORE però c'è anche da dire che il vantaggio degli argolenti è che sono molto parallelizzabili nel senso che all'interno di una stessa generazione tutti gli individui potenzialmente sono parallelizzabili non solo il costo computazionale di una generazione e quindi equivalente a quello di un singolo individuo perché si può parallelizzare l'allenamento di un singolo individuo con tanti dati con tutto il dataset è molto lungo però l'allenamento di un singolo individuo su un dataset ridotto è molto breve per dire adesso il nostro duraggio dell'implementazione è durabile perché non è parallelizzata però parallelizzandola adeguatamente avendo anche potenza di calcolo sufficiente per il numero di processori eccetera potenzialmente potresti avere un costo computazionale che è proporzionale al numero di generazioni il massimo numero di generazioni per cui farei volvere l'algoritmo e poi il costo computazionale del singolo classificatore è estremamente ridotto magari nell'ordine di pochi secondi perché il numero di campioni utilizzati per ogni classificatore è piccolissimo quindi l'allenamento viene in un'area sì cioè l'idea di corset non è quella di diminuire i tempi con cui vengono allenati le reti è quella di avere un train in set migliore fondamentalmente chiaro operazione basale no no sì 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 era per capire per evidenziare quale era l'obiettivo della ricerca una è una domanda puntuale ma in quei grafici che vediamo insomma comunque in generale l'errore è calcolato sul test l'errore è calcolato su un set non visto dal classificatore neanche dall'agricchio continuo è tenuto fuori a prima quindi insomma effettivamente lo vedete poi da dovrebbe essere sì sì sicuro si vede i punti di test magari non si vedono tantissimo perché però sono queste procette qua e i telli di errori che sono segnati qua i quadrati sono i train set che è visto anche dall'algoritmo ultimo però non c'è segnato l'errore l'errore con le procette nere è segnato solo sui punti di test non visti né dal classificatore né dall'algoritmo l'altra cosa è questa ma allora quando mi dici che alcuni algoritmi tu scegli il quadrati tu scegli al centro ma non è che queste quadrati hanno delle relazioni tra loro delle relazioni sì cioè se io devo scegliere una linea di separazione una linea di separazione e devo per prendere la miglior reddita di separazione per il mio problema la reddita di separazione è definita a due punti nella linea di separazione il fatto che sia definita perfetta non dipende tanto da quanto sono vicino a questi punti ma da come sono vissi quindi pudazzi che la mia domanda è non è che questi quadrati vanno visti a coppia nel senso che è vero che sono recenti ma probabilmente le relazioni che hanno è quello che conta tra di loro no? sì sì sono perfettamente d'accordo la cosa curiosa è che classificatori diversi hanno bisogno di relazioni di tipo diverso per esempio le relazioni che ci sono tra questi punti tra questi punti magari per creare queste superfici di decisione sono diversi dalle relazioni che ha bisogno questo classificatore per riuscire ad ottenere una buona performance e ha bisogno di relazioni diverse quindi vuol dire che proprio stiamo pensando questi algoritmi stanno pensando in modo profondamente diverso hanno necessità di relazioni non basta avere una relazione va bene per tutti i classificatori la relazione è dipendente da qualsiasi tipo di classificatore che si sta utilizzando cioè il training set migliore dipende dal tipo di classificatore esatto lo stesso training set magari non ha performance la performance che si ottiene allenando un classificatore su un training set può essere non soltanto dipendente da quanto è buono il classificatore ma anche quanto sono buoni quei dati per quel classificatore magari spostando un pochino i dati un altro classificatore lo stesso classificatore migliora tantissimo la sua potenza per tutti come dicevi c'è sempre una curiosità con il senatore che c'era anche Gian Sardo sul rapporto con i support actors perché il caso delle kernel machine di strutturati diciamo abbastanza interessante perché effettivamente già nelle kernel machine questo principio di tirar fuori una sorta di corset c'è perché è un sottoprodotto del principio di parsimonia che però metti sulla gente cioè è la funzione che in realtà unisce un criterio di parsimonia tradotto con una qualche metrica per esempio negli spazi di Invert che dicono vabbè una funzione smooth e aver imposto quel principio di parsimonia si porta dietro poi una conseguenza anche su come è fatto questo corset perché è interessante non è detto sia il meglio perché non c'è in realtà emerge per un principio diverso che è la parsimonia che impone alla gente quindi invece lo sforzo qua è quello di cercare proprio delle soluzioni che sono parsimoniose nel senso della cardinalità del 37 ma in questa direzione tutto è anche studiato un po' altre cose della letteratura io invece conosco poco su questo ma è anche venendo alla domanda di Andrea sul meccanismo cioè idee per cercare di rendere efficace questo schema conosci altre cose perché questo è carino uno schema che sfrutta la simulazione e uno si chiede per esempio se guardi il principio invece sta dietro alle femmine nascente quello però diciamo non lo pigli direttamente però è molto pulita la cosa c'è qualche criterio ci sono io ho visto che gli algoritmi più utilizzati per risolvere il problema del corset sono di cuba esiano e in particolare si basano si appoggiano tendenzialmente su approcci per fare clustering con medoni quindi si cercano i punti nel dataset utilizzando algoritmi di clustering come se si campionassero le distribuzioni nei luoghi più densi esatto la cosa interessante è che in letteratura le tecniche che vengono adottate vanno a pescare il corset nei luoghi dove c'è maggior densità di lato e poi un'ultima curiosità mi sapevo cosa su quello ma questa tesi per esempio alle SVM che in effetti alla fine sembrano favoribili centroidi tu quanto ci scomenteresti mettiamola così faccio una domanda più provocatoria e dico probabilmente se la distribuzione dei dati della dimensione è molto grande potrebbe essere che in alcuni casi il corset è molto vicino a quello che scrive da Kenner Machine cioè i support vector che ne so se immagino che effettivamente hai moltissimi strovector come chiunio cioè dei vettori di paglia ma veramente tanti proprio diffusi e hai pochi support vector perché poi dipende una posizione di support di support vector per esempio che dipende da Kenner se hai un kernel gaussiano i support vector non sono granché se hai un kernel lineale i support vector sono pochissimi di solito ecco in più questo ci ho pensato un po' diciamo che l'idea che mi sono fatto è che quando aumenta l'indicizionalità il problema diventa più complico e questo che è semplice no no bisogna dire abbiamo forme di decision boundaries che sono complesse l'idea che si formi una superficie di decisione senza utilizzare le formazioni attorno alla superficie di decisione non mi sembra possibile anche perché diciamo la forma è anche determinata qui la forma delle superfici di decisione basta che sia lineare e funzionano abbastanza bene se queste forze sono più complesse come quelle che ho disegnato poi dopo tipo questa come peggio ancora questa cioè per creare questa superficie di decisione non mi basta di due punti che siano di centronico o di due punti che siano di centronico perché ho bisogno e anche il motivo per cui l'idea è aggiungere informazione dove non ne ha piano per cercare di far occupare queste superfici dove ci serve se noi sappiamo se ha senso e questo lo dicevo dovreste avere un giro di attività bisogna dire ancora una cosa che un'altra applicazione importante di questi corset è nel creare un nuovo modo di interpretare le reti neurali perché ad esempio perché nel supporto vector machine escono fuori il i centroni se si vedono altri esperimenti infatti con il corsetto nel supporto vector machine si vede che il fatto che si passi a dimensioni superiori con la carnalizzazione verso dimensioni infinita fa vedere il fenomeno del corsetto verso il cluster verso il centro di maniera chiarissima cioè io sono convinto che si può trovare un modo per distinguere ad esempio i classificatori neurali utilizzando questa come chiave interpretativa c'è una nuova strazione quindi non soltanto dal punto di vista pratico di vantaggio o altro ma secondo me può dare una nuova chiave interpretativa di queste reti neurali un'altra cosa importante è come si rapporta al corsetto cioè l'insetto perché questa è un'estrazione di informazione quindi anche questa strada è interessante io ritengo che questo sia un punto di partenza fondamentalmente bene se abbiamo un'altra domanda quindi sono un'altra domanda grazie grazie